Enel Green Power Enel Green Power è la seconda green company al mondo per produzione di energia. L'operazione di Ipo riguarda una quota di capitale del 30% circa. Le green companies sono molto apprezzate dagli investitori. Ad esse vengono assegnati multipli decisamente superiori rispetto alle utilities tradizionali, poiché le loro prospettive di crescita e di redditività sono molto elevate. Sono state effettuate ricerche in mercato per individuare il target e il bacino potenziale che hanno confermato gli asset strategici individuati dagli analisti. La vendita di azioni EGP dal 18 al 29 ottobre in banca, poste e presso intermediari finanziari. L'obiettivo di comunicazione è creare awareness sul brand EGP, creare valore sul brand EGP, fare call to action sui risparmiatori, con la promessa di un investimento semplice, sicuro e con rendimenti chiari. Nella fase di comunicazione corporate, in Italia e Spagna sono stati utilizzati diversi media, tv, stampa e affissione. Nella fase di promozione, in Italia e in Spagna, sono stati utilizzati diversi mezzi di comunicazione. La televisione su emittenti pubbliche e private, i principali quotidiani nazionali e di settore, i principali aeroporti nazionali, i più ascoltati network radiofonici italiani ed un'ampia pianificazione web. Gli azionisti Enel hanno ricevuto una lettera firmata dall'amministratore delegato. Materiale informativo su EGP e sull'operazione, composto da Depliant e video più guida operativa, è stato messo a disposizione dei clienti di tutte le banche e della forza di vendita. Per ogni target di investitori è stato creato un numero verde e un indirizzo di posta elettronica dedicato. Sono state realizzate azioni mirate sui siti Enel e Endesa, e una comunicazione non convenzionale che ha interessato anche YouTube. L'America, nel nord dell'America Latina, passando per l'Europa e la Spagna. Dal giorno del nulla osta Consob è partita un'intensissima attività di relazioni pubbliche, coordinata da Enel Mediarell e Endesa Mediarell, che ha visto direttamente coinvolto il top management dell'azienda ed editorialisti finanziari di livello internazionale. A completamento del progetto è stato realizzato anche un articolato piano di comunicazione interna per i dipendenti Enel in Italia e Spagna, utilizzando tutti i media a disposizione del gruppo. Un progetto integrato. Il successo di questa operazione.